Un comitato tecnico si occuperà della condivisione degli sviluppi del sistema rifiuti della regione. Sarà composto dai rappresentanti indicati dalle SRR siciliane. La realtà siciliana in materia di rifiuti non è omogenea. Per questa ragione siamo in fase di costituzione di questo comitato tecnico, ha affermato l'assessore regionale all'energia Daniela Baglieri, che ha proposto l'iniziativa insieme al direttore generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti Calogero Foti. È chiaro che ognuno svolge un ruolo, aggiunge, ma dal punto di vista regionale noi abbiamo il compito di armonizzare interessi provinciali con quelli di sovrambito e al contempo con quelli nazionali. L'assessore regionale Baglieri parla anche di nuovi impianti. Nel brevissimo periodo prosegue, da un lato occorre avviare nuovi impianti, dall'altro questo sistema richiede una certa dinamicità nella pianificazione. Bisogna avere coraggio, sottolinea, ma ognuno deve fare i propri compiti a casa, altrimenti il tavolo non è equo. E ancora conclude, bisogna cercare di rivedere tutto il sistema, altrimenti andiamo solo a mettere toppe. Si deve rendere trasparente il rapporto con i cittadini, darsi degli standard e migliorare la qualità tecnica e contrattuale del servizio. L'indirizzo è chiaro, sottolinea, ridurre termini attese, ma nel rispetto della normativa vigente.